ma vi rendete conto della fortuna che abbiamo in questo periodo noi amanti delle classiche a noi ci piacciono i faritondi in questo momento abbiamo l'imbarazzo della scelta veramente ci sono proposte sempre più variegate sempre più interessanti intriganti e tra queste una delle novità dell'ultimo anno è lei la bsa gold star finalmente il glorioso marchio inglese ritorna dopo 50 anni di inattività perché l'ultima bsa risale al 1974 ritorna anche se ovviamente della bsa di allora è rimasto soltanto il marchio stiamo parlando di una realtà industriale completamente diversa nella realtà industriale che fa capo a maindra il gruppo maindra indiano la bsa gold star 650 questa qui è la moto chiamata al rilancio di questo di questo marchio nei progetti futuri ci sono sicuramente degli altri modelli ma sempre di ispirazione modern classic ecco che la bsa da brava indiana va a bussare veramente alle porte di royal anfield è chiaro che il l'avversario commerciale numero uno è proprio l'altro marchio indiano royal anfield ma di estrazione britannica chiaramente rispetto alle royal anfield che conosciamo bsa ha cercato una strada un po alternativa e il risultato a parer mio è molto molto interessante innanzitutto a partire dalla cilindrata che è 650 come la interceptor di royal anfield ma la moto è monocilindrica come la classic 350 monocilindrica però non raffreddata d'aria ma raffreddata a liquido e allora vorrei con voi passare un attimo in analisi questa bsa ghost star raccontarvelo un attimo soprattutto alla luce della mia esperienza con lei ho passato con lei una decina di giorni alcuni dei quali particolarmente intensi perché è stata con me al weekend clandestino il giro in moto che ho fatto con un itinerario disegnato da me sulle 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 alpi tra lombardia trentino e svizzera e ho fatto con gli amici del clan ecco perché clandestino i miei amici clandestini gli amici clandestini che non sono altro che coloro che hanno deciso di seguirmi in queste avventure abbonandosi alla mia campagna patreon quindi qui sotto trovi il link patreon.com slash motoretto passa a trovarci così magari vieni anche tu a farci un con noi con le nostre classicone e non perché c'è veramente di tutto dicevo la ghost star mi ha accompagnato in questo splendido giro con gli amici del clan un giro alpino un giro che ci ha portato in due giorni a fare 800 chilometri di strade statali e alpine soprattutto passando per passo gavia umbra il pass maloia passo del vivione insomma ne abbiamo fatte davvero tanto croce domini maniva è andata perfino sul famoso tratto sterrato tra maniva e croce domini bsa che si è comportata molto bene e che mi ha soddisfatto davvero sotto quasi quasi ogni punto di vista e adesso andiamo a vedere di che cosa si tratta allora partiamo innanzitutto dall'estetica il modello che vedete è la versione shadow black una versione che è stata portata è stata inserita in listino quest'anno perché perché bsa ha presentato la ghost star l'anno scorso l'ha presentata con delle belle colorazioni bicolor con le guance cromate con tante cromature con finiture comunque che anche qui sono di buonissimo livello ma con un prezzo di listino di 7.499 euro che la pone al di sopra della royal infil intersetter che è la diretta concorrente e la pone già in una fascia un po un po difficile perché cominciamo avvicinarci verso la zona moto guzzi v7 per intenderci o triumph speed twin 900 la bsa però è mono e 650 e soprattutto è bsa quanti ricordano i fasti del marchio probabilmente solo gli appassionati delle classiche oppure chi ha più di 50 anni e quindi è tutto da costruire ecco che arriva la shadow black per poter avere un'offerta lancio con la scusa di una rifiorniciata di nero che notoriamente abbassa i costi ce l'abbiamo una versione più spartana ma soprattutto ce l'abbiamo a 6.599 quindi 900 euro in meno un bel risparmio un bel risparmio già sul listino poi non so se i concessionari come evolution bike dove ho preso in prestito la moto fanno ulteriori sconti questo lo lascio a loro shadow black che si distingue dicevo per la verniciatura nera molto gradevole tra l'altro con una bella striscia grigia una striscia sportiva qui sul serbatoio che però non ritroviamo sul parafango anteriore troviamo però sul parafango posteriore a livello estetico ma direi filologico in bsa hanno fatto un ottimo lavoro perché sono andati a ripescare proprio quelli che erano gli elementi più caratteristici delle vecchie gold star l'hanno fatto abbastanza bene devo dire sono pochissime le cadute di stile qualche saldatura un po in vista qualche materiale che pur essendo metallico magari non soddisfa del tutto all'occhio qualche adesivo come questo piazzato un po lì che non sembra particolarmente bello però per il resto abbiamo veramente una linea accuratissima l'impatto estetico mi convince mi piace moltissimo mi piace moltissimo il serbatoio con questo logo gigante ha una bellissima linea ma anche la linea della sella così piatta dritta è molto bella molto anni 50 ricorda appunto il periodo in cui le bsa erano le moto più vendute al mondo pensate negli anni 50 su fine degli anni 50 una moto su quattro di quelle che erano in giro era una bsa pensate la diffusione è bellissimo il cockpit diciamo così la parte della strumentazione con due begli orologioni analogici che come da tradizione girano all'ingiù molto molto carini hanno solo due all'interno due piccoli display per l'indicatore della benzina e per i trip totale e parziale all'interno della cover del faro troviamo le spie di servizio in questo piccolo alloggiamento che ricorda appunto quello che c'era sulle vecchie bsa qui invece c'era l'amperometro ai tempi ora l'amperometro non serve più ci sono le spie servizio io trovo particolarmente riuscita la parte anteriore questo parafango è davvero ben disegnato molto avvolgente piacevole alla vista ma anche funzionale perché ci evita di infangarci e ve lo dico per esperienza diretta molto bella la forcella da 41 mm così ricoperta insomma la parte anteriore è quella che mi convince decisamente di più mi convince un po meno la parte posteriore non tanto la sella che dicevo è bella ma il parafango posteriore non mi non mi esalta va un po troppo giù lo trovo un po troppo cruiser soprattutto con questo fare un po peso che non so voi ma mi ricorda la honda shadow 750 carini anche gli indicatori di direzione minutini bello lo scarico così a bottiglia che tra l'altro vi faccio sentire anche una bella sonorità è bello anche da ascoltare non solo da vedere si sentono i classici colpi del monocilindrico monocilindrico che abbastanza pronto sotto pur non essendo un mostro di reattività è comunque un po più brillante ecco rispetto ai monocilindrici a cui siamo abituati per esempio da royal anfield intendiamoci mi piace tantissimo il monocilindrico 350 di royal ma questo essendo 650 essendo liquido è un po più reattivo ma non solo vi dirò di più è un monocilindrico che già conosciamo non è una novità assoluta lo vediamo così in questa nuova veste ma è il caro buon vecchio 652 di rotax un monocilindrico che è stato impiegato tantissimo anni fa che che credevamo istinto invece ritorna più in forma che mai perché devo dire che in questo in questa nuova vita da euro 5 funziona ancora la grandissima non è un mostro di potenza parliamo di 45 cavalli parliamo di 55 Nm ma sono prestazioni del tutto sufficienti per il genere di moto e anzi garantiscono una guida abbastanza brillante anche perché la moto non è pesantissima parliamo di 213 kg in ordine di marcia quindi con la benzina parliamo di una moto che non è fatta sicuramente per andare veloce ma è una moto per andare a passeggio andare al trotto è una moto che dà il meglio di sé agli 80 all'ora ecco che agli 80 all'ora in quinta marcia siamo a 3.000 giri abbiamo ancora abbastanza abbastanza agio abbastanza gas al di sopra e ne abbiamo anche prima perché inizia ad essere bello corposo già 2.000 giri utilizzabile già 2.000 giri e 3.000 è il regime in cui ho visto lo si usa per la maggiore siamo 80 all'ora in quinta 4.000 giri 100 all'ora quando saliamo sopra i 5.000 quindi sopra i 120 all'ora cominciano a sentirsi un po di vibrazioni niente di allarmante verrà un po di vibrazioni su manubri sui pedani ci sono che ci fanno capire che va bene così inutile insistere andare oltre la moto può andare tranquillamente oltre siamo nell'ordine dei 150 km orari di velocità massima però non ce n'è bisogno anche perché si è completamente esposti come potete ben vedere la posizione è abbastanza comoda con una parte più rastremata qui di inserimento del serbatoio si appoggiano tranquillamente molto bene i piedi abbiamo una sella a 78 centimetri quindi io lo ricordo sempre sono alto 1,75 questo è la posizione della mia gamba l'angolazione della mia gamba e qui arriviamo al primo forse unico problema per quel che riguarda la triangolazione la gamba è un po troppo piegata è un po troppo piegata e a fine giornata quando si sta tante ore si sente magari un indolestimento qui all'inguine almeno per me è così immagino che per chi è più alto possa essere ancora più fastidioso però diciamo stiamo parlando di una situazione tra virgolette limite stiamo parlando di una giornata intera in sella quando facciamo il nostro giretto di un paio d'ore non ce ne accorgiamo una posizione che potrebbe essere un po più comoda per le gambe sicuramente ma questo porterebbe alle pedane ad essere magari più basse e più basse vuol dire rinunciare ad uno dei piaceri di questa moto ovvero l'angolo di piega perché è una moto che si piega davvero davvero molto bene per una ciclistica bella equilibrata che ama il raccordo tra le curve una ciclistica che può contare su una un'ottima frenata brembo con doppio pistoncino davanti pistoncino singolo dietro con un buon mordente migliorabile forse dal punto di vista della modulabilità ma insomma direi più che adeguata al tipo di guida anche perché si usa molto il freno motore la si lascia molto scorrere non è sicuramente mi ripeto una moto con cui andare a tirare la staccata ma è una moto in cui e vi assicuro sui passi di montagna si tengono tranquillamente delle medie di tutto il rispetto si tengono si tiene il passo anche di moto con cavallerie ben maggiori è una moto che si guida davvero con il sorriso altro aspetto da sottolineare nella posizione di guida nella triangolazione è che si è abbastanza bassi di sella appunto e quindi si carica un po poco davanti io preferirei avere un po più carico carico dietro il manubrio è bello viene un po incontro non troppo è largo la posizione giusta la piega giusta esteticamente è bello poi abbiamo questo colpo di vista del cockpit che è una figata però 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 sia un po bassi di sella questo non tanto per il sellone bello morbido imbottito il giusto davvero una sella fatta veramente veramente molto bene per essere una sella così classica e tra virgolette di primo equipaggiamento ma perché è un po bassa dietro la moto a questa coppia di ammortizzatori secondo me hanno fatto una scelta di equilibrio una scelta più quasi da cruiser quindi è molto bassa dietro personalmente se fosse la mia moto probabilmente la prima modifica che farei sarebbe montare due ammortizzatori un po più sostenuti un po più alti anche perché questi sono sì regolabili in cinque posizioni per il precarico ma non sono diciamo così dei fenomeni fanno il loro dovere nella guida nel passeggio vanno benissimo sulle asperità si sente che sono un pochino secchi ma tutto sommato non sono non sono peggio ecco di altre modal classiche mettiamola così siamo sul livello della migliore concorrenza bene dicevo il motore a livello di prestazioni è un motore raffreddato liquido quattro valvole con albero a cam in testa il radiatore tra l'altro guardate come hanno cercato di mimetizzarlo un po sulla doppia culla del telaio purtroppo comunque si vede non ci possiamo fare nulla insomma però ormai ci siamo abituati a vedere delle modern classic anche con il radiatore non è più un dramma radiatore che consente ovviamente un più efficace raffreddamento del motore ciò nonostante qui sul lato destro si sente un po di calore devo dire che dalla parte bassa dello scarico qui abbiamo la scatola di compensazione dello scarico un po di calore si sente nulla di anche qui di allarmante però va segnalata a livello poi ciclistico abbiamo una coppia di cerchi a raggi con camera d'aria 18 davanti 17 dietro di primo equipaggiamento monta le pirelli phantom sport comp che sono probabilmente se non le migliori tra le migliori gomme che si possano avere su questo genere di moto per il disegno comunque vintage e per un buon livello delle prestazioni soprattutto quando entrano in temperatura quando l'asfalto è caldo sono molto rotonde che consentono il tipo di guida adatta a questo tipo di moto quindi una guida come dicevo di raccordo una guida di appoggio bene anche il cambio da questo punto di vista se vogliamo fare un confronto anticipare un possibile una possibile comparativa con l'interceptor il cambio di royal anfield è ancora un passo avanti il cambio del bicilindrico royal anfield è davvero un burro è un passo avanti questo è un pochino più contrastato se vogliamo un po meno preciso ma funziona davvero benissimo e era portato comunque bene a cinque marce la mancanza della sesta si sente soltanto nella situazione di cui parlavo prima ovvero in autostrada quando vogliamo andare oltre i 120 20 orari quando vogliamo andare veramente a ritmo autostradale ecco che lì una sesta di riposo un overdrive potrebbe essere una miglioria ecco su quello che sono su quello che è il comfort generale però devo dire che per il resto la moto la moto è molto piacevole si guida bene molto maneggevole potete vedere anche il buon angolo di sterzata è una moto tutto sommato non pesante appunto 213 kg e ben rifinita perché al di là di alcuni piccoli dettagli fa davvero una gran bella impressione e ho notato in questi giorni come mi seguissero gli sguardi soprattutto di di un pubblico molto giovane o molto tra virgolette molto maturo non non tanto della via di mezzo e questa questa cosa è curiosa andrebbe analizzata a livello sempre filologico diciamo così ci sono alcune piccole stonature i blocchetti elettrici che sono decisamente moderni nel design ma meno male sono funzionali e poi la presenza di questo lusso di questo comfort che è la doppia presa usb qui sul manubrio abbiamo un usb c e usb tradizionale accessibile è una posizione molto comoda in effetti l'ho utilizzata con gioia per tenere in carica i miei dispositivi di navigazione però effettivamente bruttina da vedere qua sotto sarebbe magari in futuro il caso di trovare un escamotage per nasconderla un po' altra curiosità è che qui sul lato sinistro troviamo una presa accendisigari facile da raggiungere e questo può essere comodo soprattutto per il rimessaggio invernale quando abbiamo necessità di attaccare magari la batteria curiosamente tutto su questa moto avviene sul lato destro e quindi l'unico lato veramente da guardare questo perché il lato sinistro è veramente un po' povero qui abbiamo la parte più bella del motore del carter abbiamo lo scarico abbiamo addirittura anche la trasmissione anche se sulle vecchie bsa era sinistra qui invece non abbiamo niente abbiamo anche il clacson in una posizione un po' particolare a livello di comfort per il passeggero è un buon comfort è quello tipico delle modern classic con un bel sellone le pedane lontane ovviamente se c'è il passeggero difficilmente riusciamo a montare molte altre borse però c'è abbastanza spazio qui dietro per montare delle borse laterali andando dunque a concludere la mia analisi su questa gold star posso dire che è una moto estremamente piacevole mi ha divertito mi ha conquistato per la facilità d'uso e per la risposta di questo monocilindrico molto bello con la giusta potenza mi ha mi è anche piaciuta abbastanza per il comfort perché l'ho trovata comoda pur non essendo una moto grandissima l'ho trovata molto stabile una buona agilità diciamo che predilige la stabilità l'agilità ma comunque la buona agilità anche nelle curve un po più strette con appunto il piccolo neo della piega delle gambe ma una cosa che secondo me è risolvibile alzando appunto dietro e a quel punto avremo anche un maggior carico davanti mi piacerebbe mi piacerebbe provare ecco chissà magari in futuro BSR farà una versione caffè racer con gli ammortizzatori più spinti o una versione scrambler estetica mi è piaciuta tantissimo il prezzo ora che c'è questa offerta ha senso 6.599 quindi 6.600 euro è un prezzo che ci sta il 7500 già secondo me per quanto sia ben fatta per quanto le verniciature siano più preziose eccetera comincia già a essere un prezzo un po troppo alto e mentre a 6.600 secondo me può valer la pena farci un ragionamento soprattutto se magari invece che il twin ecco vogliamo proprio il mono ha il suo perché spero che anche questo video ti sia piaciuto se è così fammelo sapere nei commenti passa a trovarmi soprattutto sulla pagina patreon così magari andiamo a farci un giro in moto assieme e noi ci vediamo al prossimo video come dico sempre mi raccomando è dai gas ma responsabilmente ciao 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 ciao